Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Vi faccio questo video rapidissimo per annunciarvi che questa sera ho intenzione di fare un piccolo evento. Nulla di diverso dalla solita live che ultimamente faccio la sera dalle 20.45, più o meno alle 21.45, ma vi porterò questo gioco Book of Demons, gioco che avevo già portato, ma con una piccola particolarità. Come vedete in basso a destra c'è quest'icona di Twitch che è verde e questo gioco ha una interazione con la chat. Quindi se avete piacere, se vi va, come dicevamo l'altra sera, praticamente l'altro ieri, che siete stati veramente tantissimi sul canale Viola, alcuni si sono addirittura iscritti, io manderò comunque la live in doppio, sia sul tubo che sul Viola, sul canale Viola, ma se avete piacere iscrivetevi anche lì, perché se parteciperete al Seto Viola, in chat potrete scrivere queste varie cose, ve le faccio vedere, più heal, hit, drop, potete fare anche un pochino i cattivi con me e generare un nemico, dare un effetto negativo a una carta che ho, ridistruggermi un oggetto, insomma ci sarà una sorta di timer per farmi queste cattive cose. Però se deciderete di darmi una mano, potrete scriverle e potremmo tentare magari di fare qualche livello speciale, qualche evento a difficoltà elevata, perché una particolarità di questo titolo è quella di poter affrontare ogni livello in base anche al tempo che uno ha a disposizione, quindi potremmo tentare di fare qualcosa difficilissimo, di difficoltà elevatissima, ma grazie a voi potremmo farcela, magari potete curarmi, insomma. È un esperimento, un esperimento anche per vedere, seguirò principalmente la chat del canale Viola, ovviamente guarderò anche quella sul tubo, ho una chat unificata, quindi cercherò, ma soprattutto ricordatevi che ho aggiunto qualche evento spendendo i punti canale, e quindi se vi va, se avete piacere, iscrivetevi anche lì, o venite come, diciamo, ospiti, non so se però potete scrivere in chat, avrò anche Ciccio Popazzo che verrà a seguire e magari posterà qualche bel sondaggino, insomma, trovo per le live un pochino più divertente quel tipo di chat, quella del canale Viola, anche se, ricordo ancora una volta, la live questa sera sarà in doppio, sia in uno che in un altro, ovviamente calcolate che sul Viola potrete interagire con me in gioco, e sarete quasi, ripeto quasi, in tempo reale. Ovviamente ragazzi, io vi rimando a questa sera ore 20.45, tra un po' troverete l'evento, insomma, vi ringrazio ancora per l'attenzione, un abbraccio a tutti, siete stati veramente numerosi le sere precedenti, quindi continuate a essere così numerosi, insomma, ricomincerò la partita, ovviamente, comincieremo dall'inizio, subito dopo il tutorial, è perché gli sviluppatori dicono prima di andare online con questo discorso della chat, finite il tutorial, se no non lo finirete mai. Quindi, ricominceremo, insomma, e andremo a provare questo bellissimo gioco in vostra compagnia. Ragazzi, a questa sera, alla prossima. Ciao, ciao.